Perché i bambini sono la cosa più importante del mondo, perciò ci vuole sicurezza, ci vuole... Specialmente i bambini dell'asilo, se permette 4 anni. Questa è una struttura molto vecchia, molto... È il mio pensiero da nonna. È sconvolta e piena di dubbi la popolazione di Ponticino per quanto accaduta ad una bimba di 4 anni appena che frequenta l'asilo Il Girotondo e che è caduta dentro la palestra comunale utilizzata dalle scuole del paese per le attività motorie. Cadendo avrebbe sbattuto la testa nella parte metallica di una panchina di legno procurandosi un taglio all'altezza dell'orecchio. Trasportata ad urgenza al Meyer di Firenze è stata riscontrata un'ormorragia cerebrale e una frattura scomposta alla base della scatola cranica. La bimba adesso sta meglio, avrebbe persino fatto colazione ma probabilmente dovrà subire una delicata operazione, rimane in prognosi riservata.